Sembrano giorni di stand-by, ma sono di grande fermento in casa Gela. Oggi è stato ufficializzato l'ottavo acquisto, ovvero l'esterno Antonio Ruffino, classe 2005. Il giocatore è cresciuto nella scuola calcio d'élite del Città di Carini, disputando tutta la trafira dei tornei giovanili fino all'Under-15 regionale. Il suo percorso calcistico è proseguito nel vivaio dell'Ascoli Calcio, con cui ha preso parte al campionato nazionale Under-17. Nonostante la giovanità, Antonio ha già giocato in Serie D nella passata stagione con l'Akregas e in eccellenza con la Maglia e il Santa Croce. A proposito di Under, ufficiale è anche il difensore centrale Gabriele Turrisi, classe 2006. Ieri era stato ufficializzato anche Giuseppe Prestia, altro esterno d'attacco che dovrebbe occupare la casella vuota lasciata da Shairesouf. A centrocampo resta viva la pista della trattativa con Santo Privitera, centrocampista che però è stato convocato in ritiro dalla Nissa. L'amicizia e il legame con Ivarico Cimano, Sesse e Tosto, potrebbe avere un ruolo determinante. Sembra invece fatta per l'affare Manfrè. L'attaccante parermitano ha l'accordo con la società e tra poco dovrebbe essere ufficializzato, mentre Retucci andrà al Paternò in Serie D.